Le studentesse vogliono contare il mese dell'estem e l'iniziativa organizzata oggi a Gera dal soroptimista preseduto da Mare Grazia Falconeri che si è svolta nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo. Il progetto è del MIUR in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. È stata l'occasione per approfondire la conoscenza del territorio locale. L'obiettivo del progetto è quello di coinvolgere le giovani donne stimolando e promuovendo il loro interesse verso le scienze ed accrescendo la loro sicurezza ed autostima rispetto all'apprendimento scientifico. I lavori sono stati coordinati dalla giornalista Fabiola Polara. Noi riteniamo che le studentesse, le donne, possano affrontare questi studi in maniera egregia e anche immettersi in questo campo per cui abbiamo ritenuto opportuno fare interloquire o far conoscere queste studentesse e le nostre eccellenze gelesi. Sono state scelte quattro testimonial, quattro eccellenze gelesi che si sono affermate nelle professioni scientifiche e proprio per promuovere lo studio delle stesse tra le studentesse. Questo progetto ha una duplice valenza. Uno è quello di favorire l'orientamento delle studentesse, giovani studentesse, all'avvicinamento ad un percorso universitario in ambito scientifico. E l'altro è quello di far conoscere a Gela e alle studentesse oggi presenti le eccellenze del nostro territorio. Donne che dopo aver fatto un brillantissimo percorso universitario in ambito scientifico si sono affermate e ricoprono delle cariche importanti. E sono l'ingegnere Chiara Cocchiari, la dottoressa Rossella Lucà, la dottoressa Ambra Giglia e la dottoressa Angela Palumbo. Non c'è nella scelta di un'attività di lavoro il genere maschile e il genere femminile. Le potenzialità, le ultime statistiche ce lo dimostrano, non si può dare una spiegazione biologica alla scelta di un settore. Bensì ci portiamo molto della cultura, fin dai giocattoli che vengono proposti ai bambini già si dà un orientamento. E proprio tendiamo a superare questo e alla valorizzazione della persona indipendentemente dal genere. Questo progetto è stato una sfida, siamo riusciti con facilità a creare il contenitore perché le risorse umane fortunatamente già sono nel nostro territorio. Pertanto è stato un onore così introdurre queste giovani nel nostro sistema.